Avvocato Trevisan, quali sono per la sua esperienza oggi gli aspetti, i settori in cui è più sfidante la tutela della proprietà intellettuale e per quale motivo? Essenzialmente sono i settori nei quali non si riescono a ottenere diritti titolati e che pertanto sono meno tutelati. Ad esempio la forma che non è brevettabile come modello ornamentale, non è proteggibile col diritto d'autore perché non è opera di indasso al design, avendo sostanziale valore artistico eccetera. Oppure quegli improvement del prodotto o del suo funzionamento interno tante volte che sono frutto di savoir faire delle imprese ma che non sono brevettabili perché non c'è sufficiente livello inventivo, non sono magari tutelabili come modello ornamentale e che non possono essere tutelati contro la concorrenza sleale essendo lecito il reverse engineering. Quindi purtroppo quei miglioramenti e quelle specialità che sono tipiche delle PMI italiane che sotto questo profilo trovano su tante loro realizzazioni minor tutela ed è quindi una sfida più grande quella di proteggere, bisogna invocare la concorrenza sleale, bisogna trovare elementi nella fattispecie di coppia che siano oltre il livello della correttezza professionale, bisogna sempre rappresentare il caso sottolineando le peculiarità della fattispecie rispetto al modello legale, quindi è molto difficile. Grazie Avvocato.